6 mesi fa l'alluvione che sconvolse Cantiano, Basilica di Vitruvio, Seri invita il ministro San Giuliano agli scavi, NAS nelle mense scolastiche delle Marche, 14 sanzioni, a giugno i lavori per la Cittadella dello Sport in zona Torraccia, WL Austin Day è arrivato a Petaro. La buona serata a tutti voi pubblico di Rossini. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale del canale 80 nel quale vediamo una panoramica delle notizie della provincia di Pesaro Urbino e in maniera più approfondita anche della regione Marche. Telegiornale di mercoledì 15 marzo, una data che contrassegna come oggi esattamente siano trascorsi sei mesi dalla tragica alluvione del 15 settembre che ha messo in ginocchio diversi comuni delle pesarese e del lanconetano, come quello di Cantiano. Oggi a tal proposito abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco Alessandro Piccini per fare il punto della situazione sulla ripartenza alle pendici del Catria. Nonostante siano passati sei mesi, ancora per noi sono vivi quei momenti in cui due ore di pioggia hanno tentato di cancellare il futuro e soprattutto mettere in discussione il passato e mettere in discussione il ritorno al futuro del paese. Ecco, noi dopo sei mesi comunque ci sono tentativi molto positivi di ripartenza, il paese si presenta chiaramente molto meglio di com'era, è ritornato fruibile, percorribile in ogni sua parte, stiamo vedendo che tante attività stanno riaprendo con tenacia, con ottenismo, chi riapre oggi riapre meglio di prima, però è chiaro dopo sei mesi che come abbiamo sempre detto bisogna che si manifestino quei sostegni e che lo Stato faccia lo Stato, da soli questa battaglia non possiamo vincerla, tanti sono i danni ancora irrisolti, la quantificazione dei danni al patrimonio pubblico, privato e attività di impresa sfiora i 70 milioni di Euro, ad oggi l'unico trasferimento formale istituzionale nelle casse del Comune è stato di 194 mila Euro per pagare pochissime ditte di quelle che hanno lavorato nei primissimi momenti, quindi Cantiano e i cantianesi sono persone tenace che sanno rimboccarsi le mani, che però è arrivato il momento non più procrastinabile dei sostegni, dell'aiuto per cercare di facilitare e accompagnare questa difficile ma ottimistica attività di ripartenza. Sei mesi dopo nella vostra quotidianità che cos'è che manca? Soprattutto la viabilità adeguata ai servizi, qualche servizio che ancora latita? Sì, ecco, mancano le opere infrastrutturali, quelle strategiche, alcune emergenziali, mi riferisco al sistema acquedottistico, al sistema di depurazione, sia nel capoluogo che in alcune frazioni, mancano quelle opportunità da cui dipende poi l'indotto turistico e agroalimentare del paese, mi riferisco all'accessibilità al Monte Catria, così come manca una opera di mitigazione dei rischi sui alberi fluviali che possa dare sicurezza a quei privati cittadini e alle attività di impresa che stanno ripartendo e metterli a punto con la certezza che un fenomeno del genere non ricrei gli stessi danni che ha ricreato. Per rendere i prossimi sei mesi meno complicati di quelli che avete appena trascorso, servirà come priorità che la macchina istituzionale viaggi ad una velocità più prossima a quelle che sono le urgenze delle famiglie, delle imprese e delle attività? Esatto, questo è il problema vero. Noi viviamo due tempistiche, quelle congrue e comprensibili di un sistema pubblico che è farraginoso, che è lento dopo il periodo emergenziale iniziale, invece l'urgenza da parte di famiglie e di imprese che vedono sei mesi come un'eternità, vedono ancora i problemi risolti rispetto ai quali va data la soluzione. Quindi c'è già anche una proposta, noi stiamo avanzando delle proposte, oggi stesso incontreremo la prefettura di Pesolo Urbino proprio per cercare di velocizzare al massimo anche le procedure di ripristino, di ripartenza, quando arriveranno, ora il problema è non averli i fondi, ma poi sarà un problema anche averli, spenderli e mettere a terra, far partire i cantieri, le opere pubbliche, gli appalti. Noi è una struttura nostra, una struttura comunale ormai a un passo dal collasso, siamo 12 dipendenti che sono sottodimensionati anche in condizioni ordinarie, figuratevi dopo un evento del genere, quindi abbiamo bisogno di supporto alla macchina operativa, per mettere a terra le risorse, i ristori ed accompagnare anche un coordinato ed organico intervento di ripartenza, da bisogno di sapere quando arriveranno i ristori, di che entità si parla, perché solo così potremmo coordinare e supportare un'attività di ripartenza tra pubblico, privato ed attività di impresa. Non possiamo gestire la singola problematica a se stante, ma bisogna avere un quadro complessivo all'interno del quale far partire ogni singola progettualità e ogni singolo intervento. A Fano, almeno per il momento, si fermano gli scavi archeologici relativi al presunto ritrovamento della Basilica di Vitruvio. Una scoperta che, se confermata, avrebbe una portata storica e per questo motivo il sindaco Seri ha ufficialmente invitato il ministro San Giuliano nella città di Fano per constatare di persona la portata di questi scavi. A Fano continuano fascino e suggestione attorno all'ipotetica scoperta della Basilica di Vitruvio, seppur ancora senza alcuna certezza storico-scientifica. Il sindaco Seri ha ufficialmente invitato tramite lettera il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano a visitare i reperti della possibile Basilica, prototipo di tutta l'arte edificatoria classica. Fano infatti vanta un patrimonio archeologico da Guinness ed è anche per questo che l'arrivo del ministro potrebbe essere fondamentale per decidere le possibili strategie di valorizzazione e pensare alla città di Fano come destinazione privilegiata per lo studio dell'archeologia classica. Gli scavi però sono stati sospesi, servono infatti 50.000 euro per poter proseguire a allargare il campo d'indagine in via Vitruvio. La superintendenza chiede infatti oltre all'attenzione mediatica anche quella del ministero. Gli archeologi impegnati fisicamente con pale, picconi e cariole stanno portando alla luce materiali rimasti incastonati nel sottosuolo da 2.000 anni. Un muro romano spesso un metro e mezzo, lastre di marmo pregiato ripulite per risaltarne il colore verde rosato, oltre a materiali di altre epoche che stanno venendo estratti, puliti e catalogati. Il coordinatore scientifico del centro studi vitruviani Oscar May ha visitato ieri per la prima volta l'area indicata come la possibile scoperta. Insieme a lui anche la soprintendente dell'archeologia delle Marche Cecilia Carlo Rossi e la funzionaria L'area Venanzoni che è stata tra le prime ad accorgersi dell'eccezionalità dei ritrovamenti. Anche se tutti gli enti mantengono prudenza sulle dichiarazioni, secondo le informazioni descritte dal trattatista latino Vitruvio nel quinto libro del De Architettura, la basilica fu collocata proprio nell'area centrale della città, quell'area che oggi sta venendo lentamente e rispettosamente spolverata alla ricerca di un tesoro culturale che per risplendere ha bisogno di ampliare gli scavi. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute ha realizzato in questi giorni controlli a tappeto in tutta Italia per verificare i servizi di ristorazione e le imprese di catering assegnatari della gestione delle mense scolastiche. Nello specifico delle Marche, i NAS di Ancona hanno ispezionato 22 locali fra laboratori di produzione pasti, punti cottura e ambienti di rifezione scolastica dagli asili alle università. Sei di questi sono stati controllati in provincia di Pesaro Orbino. In un solo caso, nel Maceratese, sono state accertate carenze igienico-sanitarie, mentre in misura maggiore sono state rilevate carenze strutturali che hanno portato alla contestazione un'amministrativa di 14 sanzioni per un totale di 15.500 euro. Il carcere di Villa Fastigi è sovraffollata e questa la fotografia rilevata dal monitoraggio periodico del garante dei penitenziari Giancarlo Giulianelli che ha evidenziato come a fine febbraio la casa circondariale pesarese stia accogliendo 210 detenuti su 153 posti effettivamente disponibili e con tutte le relative problematiche di gestione del penitenziario. Dei 200 detenuti ospitati, 88 sono stranieri e 21 sono donne con la sezione femminile dei penitenziari presente nelle Marche solo in questa struttura. Ed ora parliamo di opere pubbliche a Pesaro fra progetti che decollano e altri che invece vengono frenati dopo periodi di slancio. Appartiene a quest'ultima categoria l'interramento della statale all'altezza di Viale della Repubblica. L'interramento della statale all'altezza di Viale della Repubblica esce dalla lista dei progetti a medio e lungo termine per spostarsi nel tempo indeterminato di un archivio di idee accantonate, almeno per il momento, dal comune di Pesaro. L'idea della rambla così ribattezzata dal sindaco Ricci incappa infatti in una brusca frenata dopo un visionario viaggio partito sullo slancio di ottimismo che aveva già messo in fila un progetto di fattibilità e l'inserimento nello scorso autunno all'interno del piano triennale delle opere. Una creazione di un'unica passeggiata e pedalata senza sosta da Piazza del Popolo alla Palla di Pomodoro per la quale era stata stimata una spesa di 6 milioni di euro. Troppi per accendere un altro mutuo di tale portata. Anche perché nei piani iniziali gran parte dell'interramento della statale sarebbe stato finanziato dagli oneri di urbanizzazione pagati al comune per costruire sull'ex Bramante, edificio tuttora invenduto quando la cessione a privati sembrava cosa fatta. Un'idea dunque naftalina nonostante un progetto già finanziato da 100.000 euro per pianificare il sottopassaggio. Progetto che ora diventa una carta da giocarsi per l'intercettazione di bandi capaci di ritagliare analoghe risorse. Ed è invece molto più concreta la partenza di lavori alla nuova cittadella dello sport che sorgerà in zona torraccia. Non solo la cittadella del basket a Villa San Martino con i suoi 4 milioni di investimento. Prende forma anche la cittadella dello sport in zona torraccia finanziata da un milione e mezzo dal PNRR Sport e Inclusione Sociale per un progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale questa settimana e coordinato dagli assessori Pozzi e della Dora. Sarà un progetto armonizzato all'annessa pista ciclorotellistica già annunciata un anno fa anche dall'allora sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. La gara d'appalto è partita e dentro giugno, in un'area non distante dalla Vitrifico Arena, si inizieranno i lavori per realizzare una nuova palestra, uffici e spogliatoi dimensionati sulla base delle norme CONI per l'impiantistica sportiva. Il tutto con servizio all'insegna dell'accessibilità e della sostenibilità alimentata da impianti fotovoltaici. Completerà il progetto un'area dedicata all'attività outdoor in cui sarà possibile praticare palla canestro, pallavolo, calcio a 5, tennis e attività di fitness e calisthenics. Ed ora ci occupiamo di sanità e lo facciamo attraverso questa intervista al consigliere regionale Andrea Biancani che evidenzia la grave carenza di figure di psichiatri all'interno delle strutture pubbliche di Pesaro e Fano. La carenza degli psichiatri è veramente molto evidente in quanto a tutt'oggi in servizio ci sono appena un terzo di quelli che sono realmente previsti dalla normativa. Ricordo che la psichiatria di Pesaro e Fano fa un servizio per circa 280.000 persone e la norma prevede uno psichiatra ogni 10.000 persone, quindi dovrebbero essere in 28, ma ad oggi in servizio sono appena in 10 più il primario. Per quanto riguarda il centro di disturbi alimentari e anche qui è presente un solo psichiatra che ovviamente come tutti ha diritto ad andare in ferio o può anche capitare che è in malattia e quindi è assente presso il proprio servizio, questo comporta un allungamento delle liste d'attesa, un allungamento delle prime visite e tutti quei servizi che sono necessari. Io ritengo che questa situazione stia esasperando innanzitutto i pazienti e le loro famiglie che non riescono ad avere una risposta in tempi rapidi, spesso parliamo di situazioni anche complicate e quindi ritengo che il servizio pubblico debba essere nelle condizioni di poter stare vicino ai cittadini, ma è un problema anche per quanto riguarda lo stesso personale che a causa di questa carenza è costretto a carichi di lavoro che stanno diventando insostenibili e che quindi sta provocando come dire un'emoragia del personale che preferisce andare a lavorare in altre strutture e soprattutto in altre regioni. Per quanto riguarda voglio ricordarlo che i psichiatri del servizio di psichiatria vengono chiamati per i servizi dei ricoveri ospedalieri, fanno il servizio presso i centri di salute mentale, svolgono assistenza nei centri diurni, nelle strutture riabilitative, quindi questo è un servizio a cui fanno riferimento veramente tante altre attività. Io mi auguro che la regione cambia passo, decida di riattivare i concorsi, l'organico deve essere potenziato, ma soprattutto è necessaria una riorganizzazione anche alla luce della nuova azienda sanitaria territoriale, quindi una razionalizzazione del personale presente al fine di riuscire a dare risposte alle tante famiglie che hanno bisogno di un servizio pubblico più efficiente e che possa stargli vicino nei momenti di bisogno. In questo 2023 raggiunge il prestigioso traguardo della 25esima edizione il premio che la fondazione Filippo Fattore assegna ogni anno agli studenti della provincia che conseguono buoni risultati scolastici a rispetto di disturbi e affezioni psicofisiche. 25 anni fa abbiamo cominciato a premiare i giovani che pur portatori di malattie neurologiche, di affezioni, di problemi di vario genere, frequentano le scuole della provincia, le scuole medie inferiori e superiori e tengono buoni risultati perché si impegnano, perché studiano. Il primo premio ha premiato una sola ragazza perché ancora non c'era una diffusione. Adesso mediamente le domande annualmente sono di 80, 75, 80. Il numero si è attestato ormai a questo numero. Di questi ne premiamo sicuramente 50 fino ad arrivare anche a 60. È un bel traguardo quello di averlo fatto da 25 anni perché stiamo praticamente raggiungendo il numero di mille studenti premiati, il che penso che ne sia proprio poco. Il bando di quest'anno è stato compilato in maniera forse pignola perché quasi la metà delle domande che ci arrivavano erano o incomplete o sbagliate o prive di nome o prive di certificazioni valide e quindi abbiamo fatto un'elencazione in minuta di come va compilata una domanda. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile di quest'anno. Quest'anno pensiamo anche, passato il periodo della pandemia, di rifare la cerimonia in presenza, chiamando in fondazione tutti i giovani che sono stati premiati per la consegna di persona, probabilmente fra il mese di ottobre e il mese di novembre. Recuperare i camper itineranti già impiegati nella campagna vaccinale per agevolare le donne sulle attività di prevenzione e screening legate ai tumori all'utero e al seno. E' questa una delle proposte emerse oggi dal primo forum delle amministratrici della provincia radunatesi nella sala Pierangeli sui temi delle politiche di genere. Una soluzione è quella proposta nell'occasione dalla consigliera regionale Micaela Vitri, favorendo pap test itineranti senza pronotazione nel territorio e agevolando le aree più interne e distanti dai servizi. E ad Urbagna sono stati presentati i corsi di ceramica di Urbagna 2023, un nuovo progetto di promozione territoriale che fa sleva sulla produzione di maiolica che rese l'antica Casteldurante nota fin dal Rinascimento. Una tradizione di pregio che vede oggi Urbagna come una delle 35 città italiane doc per la produzione di ceramica. Una tradizione che continua con le botteghe del paese che si presteranno a corsi per tramandare l'arte della maiolica. Curiosità, ieri sera su Rai 1 dove al programma di Amadeus i soliti ignoti ha partecipato anche Davide Mazzanti, allenatore della nazionale femminile di volley che si è presentato con un semplice sono Davido, 46 anni e vengo da Marotta, diventando così un ignoto da far indovinare ai concorrenti che nel caso specifico non hanno avuto dubbi inquadrando subito l'identità delle città marottese. Felice di essere tornato, non vedo l'ora di dare il mio contributo alla squadra per fare tutto ciò che serve per vincere. Sono state queste le prime parole pronunciate oggi in inglese da Austin Day atterrato in Italia ed arrivato a Pesaro per rivestire dopo sette anni la maglia della VL. Ed è stata una serata disastrosa quella di ieri per la V Spesaro che ha toccato il piunto più basso della sua stagione perdendo anche in casa con il Montevarchi ultimo in classifica e intravedendo spettri di retrocessione sempre più concreti. La partita è stata decisa da un gol di Perez al venticinquesimo e la VL non è riuscita a sfruttare né un calcio di rigore sbagliato da Fedato né a far fruttare 37 minuti di superiorità numerica. Feroce la contestazione dei tifosi al termine della gara. Situazione più tranquilla ma nemmeno semplicissima quella per l'Ital Service che nel match di recupero di ieri a Nocera Inferiore ha pareggiato 2 a 2 con il Real San Giuseppe. Il Talservice a data sotto ha ribaltato il punteggio con João Miguel e Chitola ma è stata raggiunta nel finale di partita sul 2 a 2. Venerdì al Palafiera altro match alle 20 e 30 contro la Meta Catania. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Come di consueto però vi salutiamo dandovi alcuni promemoria sugli appuntamenti nella nostra emittente sul canale 80 a cominciare dalla prima serata di questo mercoledì 15 marzo che è dedicata al teatro dialettale. Vi proporremo nuovamente la commedia in due tempi di Franca Mercantini la cartomanta pastrucchiona appuntamento alle 21 e 20 con questa opera realizzata dalla compagnia teatrale Il Faro. E poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 con Buongiorno Rossini la rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione in questo giovedì sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi. E andiamo anche a fare un salto alla serata di domani, serata in diretta con l'appuntamento del giovedì di insieme a Canestro condotto dal nostro Marco Cadedu. L'appuntamento alle 21 e 20 e gli ospiti della puntata saranno il pivo della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Leonardo Totè e il giornalista Luigi Luminati. Vi ricordiamo anche la possibilità di interagire con messaggi whatsapp in diretta al numero che vedete in grafica 370-366-7210. Ed è davvero tutto per questa sera, si conclude qui Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.